Salve a tutti amici, eccoci al mio quarto video didattico, o meglio detto video consiglio, come l'ho chiamato fin da subito. Quest'oggi suonerò e vi mostrerò le tablature un brano della tradizione americana, un brano popolare, che è Amazon Grace. Lo faremo con l'armonica cromatica, o meglio, magari prendiamo questa, più piccolina. Armonica cromatica a tre ottave, ogni quattro fori è un'ottava. Questo è un brano che viene anche molto bene con la diatonica, per via che il tema è tutto, possiamo suonare in seconda posizione, il tema è sulle note aspirate, quindi ci sono molti bending e quindi c'è molto di quel colore tipico dell'armonica diatonica. Andiamo a suonare il brano. Andiamo a suonare il brano. Andiamo a suonare il brano. Andiamo a suonare il brano.